Ciao a tutti, mi chiamo Gloria Venturini e sono una fisioterapista nel servizio di neuropsichiatria infantile di Reggio Emilia. Con questo video vorrei mostrarvi alcuni esercizi che si possono fare anche a casa per migliorare il rinforzo, la stabilità e la funzionalità del tronco. Potete chiedere alla vostra fisioterapista di riferimento quali sono quelli più indicati per il vostro bambino. Inoltre vorrei anche consigliarvi di leggere le indicazioni generali per le famiglie che abbiamo raccolto in un documento presente anch'esso in questa cartella. Grazie. 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 Grazie.